Intanto oggi il Movimento 5 Stelle è impegnato a Roma in Senato con i 16 milioni di euro che il Movimento ha destinato alle piccole imprese. Il Movimento 5 Stelle festeggia al Senato il quinto Restitution Day, staccando un assegno da 16 milioni risparmiati in 5 anni. L'importo di quest'anno, come quello del 2015, viene versato sul fondo di garanzia per il microcredito alle piccole imprese. Come funziona? Il denaro non viene erogato direttamente, il fondo è infatti gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ma serve a garantire i prestiti che vengono erogati da 10 mila sportelli bancari. In Italia accedere al credito per le piccole e medie imprese è una vera e propria impresa. Prima di tutto perché molte non sono bancabili. Che cosa significa? Che per molte banche troppi imprenditori italiani non hanno i requisiti e le garanzie per potervi accedere. Il bilancio di questo primo anno, il fondo è stato attivato il 27 maggio del 2015, sono incoraggianti. Le domande accolte sino ad oggi sono 1852 e solamente un'azienda si è dimostrata inadempiente. Oggi si viaggia a ritmo più sostenuto, circa 300 domande al mese e per la fine dell'anno si dovrebbe arrivare a 4 mila prestiti erogati. Ma come è riuscito il Movimento 5 Stelle a risparmiare sino ad oggi 17 milioni e mezzo di euro? Tagliando di oltre il 50% l'indennità all'orda dei propri parlamentari, da 11.500 a 5 mila euro al mese, restituendo la parte di diari e di rimborsi per le spese di mandato non spesi, impegnandosi a restituire l'indennità di fine mandato, in pratica il TFR, da circa 50 mila euro che verrà versato loro a fine legislatura.